Su Achille Polonara, ecco la partenza di Geron Tyson, con scacciata, non arriva l'aiuto, ancora Marika, a quota 90. La tensione tattica della Grissin-Bom sulle linee di passaggio difensiva, qui è Laval, con la scaccia da terra, siamo già con lui. E scacciata, David Lowe, più 5 di uno, la stessa era di Geron Tyson. Vuole che Sosa sia vicini per ricevere questo pallone ancora. Ora adesso, oltre che la distanza, deve costruire qualcosa dal palleggio, c'è Laval, e in questo modo ha spettato. C'è Riga, il pallone, nello possibile Scudetto, guarda in Sevilla. Comincia gara 6 della finale, Scudetto, la Reggiana ha l'opportunità questa sera di diventare campione d'Italia. Dalio in backdoor, tira King Sanders, gioco che infetto alla perfezione la Dinamo. Dalio in backdoor, da parte di Thunder. La finta di Cinciarini, gran palla di Cinciarini per Vitalis Cicoco. Si fa sentire, si fa vedere anche il miglior assistment del campionato, il miglior assistment anche di questa finale Scudetto. C'è Laval che vuole la palla in posto basso. Attacca a sinistra, Logan decide di andare su, regalando questo assist a Shane Laval. Partita fino a questo momento molto equilibrata. La difesa, l'attacco del banco di Sardegna. Dyson però decide di andare a sinistra, ha giocato a pazzesca per Jerome Dyson. E ricordiamo cosa ha fatto qui in gara 4, 28 punti e la tripla decisiva per la vittoria. Silenz, il pallone recuperato da Dyson, che è caldissimo in questo inizio di partita. Voleva continuare ad attaccare Dyson. Due canestri consecutivi, assist per la scacciata di Shane Laval. È il momento di Dyson. In cura, Polonara rifiuta il tiro, decide di andare nell'angolo dove c'è Drake Diner che ha tutto lo spazio per prendersi la tripla. Tocco determinante a rimbalzo per Cervi. Rimbalzo sempre di Dyson. Il crossover su Silenz decide di prendersi questa conclusione. Altra giocata pazzesca di Dyson. Tagliato nel momento giusto, non riceve. Della Valle va ad attaccare. Splendida circolazione di palla per la Gressimbon fino all'arresto. Tiro canestro per Cinciarini. E nella capacità di andare a tiro da sopra. Qui, splendida esecuzione del Pichero al centrale. Prova ad attaccare a destra il giocatore elettore. Riccardo Cervi con il tap-in in schiacciata. Sta facendo molto bene il giocatore azzurro che se riesce a limitare le palle perse diventa davvero un fattore. L'uscita di Della Valle palla dentro per Cervi e che va a regalare questo assist a OJ Silenz. Infatti è bene la Gressimbon. Drettiner che prova ad aumentare il numero dei giri della Gressimbon servendo Kaukenas. Palla fuori per Della Valle. La tripla da parte di Amedeo Della Valle. Pareggio, Gressimbon. Sempre la freddezza di Della Valle. Davvero una garanzia. Il taglio di Pini. Riesce a ricevere palla Pini e che aspetta quasi il ritorno di Jerome Dyson. Di Cervi è la quarta volta che si crea questa situazione. Brooks dall'altra parte risponde immediatamente. La partita l'ha avuto la Dinamo. Più 7 proprio all'inizio di questo periodo. Pini contro l'Aval. Bravissimo anche lui Giovanni Pini. Riggs contro il suo erede qui a Sassari. E proprio Diner a coinvolgere Polonara che sbaglia la conclusione. Poi extra possesso per la Gressimbon ancora. Amedeo Della Valle 3 su 3 dall'arco. Ancora cambi per la difesa del banco. Proprio quello che voleva Meo Sacchetti. In ritardo Logan su un drag cleaner. C'è lo stesso giocatore di Chicago che sporca il pallone a Pini. Bravissimo. Il lo sta producendo. Strepitoso Pini nelle letture del gioco. A chiudere la circolazione. Palla in mano a Sosa. Il pallone per Jeff Brooks che deve prendersi questo tiro in allontanamento. 38 secondi da giocare. Squadra nuovamente in paretà. A quota 43 con Brooks che zoppica dopo la giocata. E ha delle percentuali da 3 superiore al 60%. Da 2 al 60%. Ancora Logan per trovare un canestro. Ecco la prima tripla della partita. Ha cercato di uscire forte dai blocchi David Logan. Sanders la finta su Riccardo Cervi. Rakim Sanders fino in fondo. Gran giocata di Kaukeles da una parte. E la risposta in schiacciata di Rakim Sanders. Ora Cinciarini che ha lo spazio per prendersi la tripla. Labo la palla recuperata da Seilins. Logan la finta di andare a chiudere su Cinciarini. E poi Cinciarini viene stoppato da Shane Laval. Siamo già dall'altra parte del campo. Rimane su Seilins. Poi è la schiacciata sbagliata da Rakim Sanders. Tanti errori ma anche spettacolo strepitoso in questo momento. Ancora Kaukenas. Intimidazione tecnica. Questo rilascio in secondo tempo di Kaukenas. Che momento. Perché non stiamo spendendo falli. E poi attenzione. Pasciatura vistosa che è stata messa dallo staff sanitario. Di Sassari e Rakim Sanders sul polso destro. Il troppo di Cervi. Cinciarini che non chiude il palleggio. Vuole andare da Kaukenas. Caldissimo in questo inizio di terzo periodo. Con Sanders che vuole andare in palleggio. Riesce a trovare una penetrazione anche se mancava lo spazio. Pallone che finisce tra le mani di Keny Kaji. Assegno Kaji. Cento secondi da giocare in questo terzo periodo. Con Dinara che va ad attaccare a sinistra. C'è Laval su di lui. Cambio difensivo con Drake. Che l'opportunità di battere in uno contro uno. C'è Laval. Arresto. Tiro. Canestro. Per Drake Dinara. Mentale per Drake Dinara e per la Grisimbo. Laval dal post-alto. Rischia moltissimo in questa giocata. La buona circolazione di palla per il banco di Sardegna. Con Sosa. Che si prende questo tiro. Fa girare bene palla per De Laval che ha un tiro da lontanissimo. Lo prende. Lo sbaglia. Poi questa volta è Reggio che è più reattivo al rimbalzo. Ma il tentativo di silenzio viene cancellato da Kaji. E c'è già Laval che va a segno con questo canestro. Splendida transizione. L'esultanza di Shane Laval. Arriva a quota 17 con 12 ribbalzi. Ci sarà anche il tiro di branciuntivo. Tempismo di Kaji. Opportuno per... La pressione di Logan. Lo show di Laval. Cervi è bravissimo nel coinvolgere. Hoyar Seilins. Ancora una volta punita l'aggressività della Dinamo sul perimetro. Reggio Emilia di conquistare il primo scudetto della sua storia. Cinciarini. Ma dalla parte opposta dove c'è Seilins. che è liberissimo di tirare. Esulta Cinciarini. Girare la squadra Dyson. Poi decide di partire. Scarico quasi impossibile per Logan. Che riesce a mettere a posto i piedi. A sparare la tripla. E ha un attacco super complesso. Terzo su Cinciarini. Mette in difficoltà il palleggio del plemecher azzurro. Kaji su Seilins. Probabilmente con fallo della Valle. Di rialzare la parabola. Cosa ha fatto? Ancora della Valle. Stavolta sbagliato da Cinciarini. Con la possibilità di contropiede per la Dinamo. Laval. Dopo aver ricevuto. l'assist di Kenny Kaji. Vuole andare da Seilins. Attacca il Lettone. Laval è fuori. Questa volta Cinciarini allo spazio. Perfetto il fintoso. Bravissimo Cinciarini. Già verso il cubo. E forse qui sarebbe stato meglio Ciccoco. Cinciarini. ha una possibilità favorevole di andare in uno contro uno. La difesa di Kaji. L'aveva detto. E' un canestro. E' un canestro. Cinciarini va dentro. Alza la parabola. Cicciarini. Su Shein Laval. Gran giocata del capitano di Reggio. 1-20. Cinciarini ha il pallone del possibile scudetto per Reggio Emilia. Cinciarini. La palla che va a finire sul secondo ferro. E si va ancora una volta all'overtime. Aveva tra le mani Andrea Cinciarini il pallone del possibile scudetto della Reggiana. Polonara. L'uscita di Della Valle. Non c'è possibilità di ricevere. Lo fa in questo momento Della Valle che va a costruirsi la tripla dal parneggio. Incredibile. Prodezza di Della Valle. Sanders. Ancora la finta su Polonara. I giocatori della Dynamo non vogliono andare con il tiro da fuori. Vogliono andare in totale sicurezza. E la sicurezza questa sera. La garanzia. Si chiama Shein Laval. 25 più 14. 12 ore a seconda di disposizione per il Clemente che era azzurro. In tre addirittura su Cinciarini che deve rinciocare questo pallone. Fuori per Della Valle. Da lontanissimo. Della Valle. Ancora lui. Prepara un blocco di contenimento. Ecco Logan. Tiro immediato per Logan. Di tabellone. Di tabellone. 90-88. A disposizione di Dyson che tra un po' partirà su Achille Polonara. Ecco la partenza di Jerome Dyson. Con scacciata. Non arriva l'aiuto. Ancora parità. A quota 90. Dyson. Ha lasciato l'uovo sul posto. Il taglio di Polonara si fa però da Kokenas. Lo scarico per Silins. Attacca benissimo Reggio Emilia. Ma trova soltanto il ferro. L'apertura di Ella Valle. Poi la schiacciata a terra. Siamo già con Logan. E schiacciata. David Logan. Più 5 dinamo. L'assist era di Jerome Dyson. L'ha schiacciata questa volta di Logan. È un metro e 82 Logan. Mi aspettavo un arresto, una pinza e un appoggio al tabellone. Stiamo commentando questa sera un evento strepitoso. con David Logan che va a segno ora dai 6 metri e 75. Nuovamente avanti ora la Denamo. Di 3 che arrivano a 19 ora con la prudenza di Logan. La pressione su Drake Liner che se ne va via a sinistra. Pallazzata perfettamente per la Leop. Un po' chiuso. A trovare puntuale. E va in doppia cifra come hai detto. Dyson anche questa volta da lontanissimo. Jerome Dyson con il risultato del pistola. Drake Liner aspetta il blocco di Cervi. Attacca Drake Liner e va a segno. Vuole che Sosa si avvicini per ricevere questo pallone. Ancora Dyson. Ancora Dyson. Due tripletà di slanza proibitiva. Non vuole attaccare. Però ha mandato probabilmente a sinistra. Contro Drake Liner lo attacca. Poi arresto. Tiro canestro per Jerome Dyson. Non lo ferma più nessuno. 8 punti consecutivi per Jerome Dyson. Vediamo se spendono un fallo i giocatori di Reggio. Non è così. C'è Logan che ha la possibilità di andare in campo aperto. C'era solo Cervi a protezione dell'anello. Logan però è stato bravissimo con il reverse. Dyson scaricò su Cervi. Che riesce splendida. Splendida la panchina di Reggio Emilia. Strepitoso il pubblico del Palazzo Rademini. Che saluta la Dinamo. In attesa di seguire qui dalla Sardegna. Una gara a 7. Che come detto si giocherà tra 48 ore a Reggio Emilia. Che saluta la panchina di Reggio Emilia.